Exorat X, eccoci qui oggi, Mercedes classe A. Si tratta di una versione premium, AMG Line, come potete notare bellissime linee. Stemma Mercedes, eccolo qui davanti, bellissimo. Questa colorazione grigio metallizzata, si tratta di un 1.5-116 cavalli. Guardate che belli i cerchi con la bellissima scritta AMG. Questa è tutta la parte sinistra dell'auto, sensori di parcheggio posteriori. Andiamo a visionare lo splendido bagagliaio di classe A. Capienza a 341 litri per un bagagliaio capiente, per un'auto che si può utilizzare sia in città che per i viaggi, molto comoda. Interne in pelle con alcantara, finiture con questo colore rosso, bellissimo, bocchettoli dell'aria presenti. Andiamo a visionare un po' gli interni di Mercedes, che sono stupendi. Con queste prese per l'aria, appunto, qui si regolano tutti i comandi per quanto riguarda il clima. Qui c'è il touch, per quanto riguarda appunto l'infotainment con cruscotto digitale. Questa è la leva del cambio automatico e qui sul volante troverete appunto il cruise control e il viva voce appunto e anche la regolarizzazione del volume. Luci a LED presenti con anche la possibilità di cambiare il colore all'interno del mezzo. Si tratta di una diesel del 2019 con solo 43.000 km. Come per tutte le nostre auto, anche per questa stupenda A180D, la troverete sul nostro sito. Provate il vostro test drive e venite a trovarci www.ratix.com Ciao ragazzi!